Cristo nella verità della nostra natura fu fatto simile a noi in tutte le cose eccettuato soltanto il peccato dal quale fu ondinamente immune e nella carne e nello spirito. Egli venne per essere l'agnello senza macchia il quale col sacrificio di se stesso fatto una sola volta doveva togliere via i peccati del mondo ed il peccato come San Giovanni dice non era in lui ma da lui in fuori tutti noi benché battezzati e rigenerati in Cristo ciò nonostante pecchiamo in molte cose e se diciamo che non vi è peccato in noi inganniamo noi stessi e la verità non è in noi.